qui stanno esponendo effettivamente delle persone sono degli architetti persone che mi sono anche venute da fuori che sono pittrice amiche una mia è venuta da trevi un'altra da perugia l'altra da spoleto e c'è uno studio sia di colori che di opere una collettiva d'arte contemporanea ospitata nella sala espositiva della chiesa di sant'angelo al cassero nel comune di monte san savino in mostra sculture ed opere pittoriche di 22 artisti e aretini e non solo l'evento culturale è organizzato dall'associazione culturale visione per arezzo la mostra rimarrà apertasi nel prossimo 28 maggio allora io sentendo il quacervo di idee di elementi che hanno concepito questa associazione ho cercato di interpretare visto che tra l'altro le idee sono nobili e i fini e gli scopi lo sono altrettanto ho cercato di dare un'idea a questa associazione che hanno voluto chiamare visione per arezzo che fosse appunto un'idea di visione collettiva una sorta di utopia di politica nel senso nobile del termine nel senso di servizio alla gente e il logo appunto che è concepito è una icona di libertà c'è questo gabbiano dorato che vola verso verso una libertà e verso una coesistenza pacifica e ideale delle persone grazie a tutti grazie a tutti